Ennesima vittoria per la BCC di Acquara convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Lago Negro da una correntista che nel 2011 lamentava l'applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali in violazione dell'articolo 1283 codice civile nonché spese e commissioni non dovute. La causa è proseguita sino al secondo grado di giudizio. Il magistrato designato emette la sentenza il 13 luglio 2020 in cui condanna il correntista al pagamento in favore della BCC di Acquara delle spese di giudizio sia del primo grado che dell'appello nonché delle spese della consulenza tecnica d'ufficio. Si ritorna sul tema della giustizia considerata sempre più lenta che ha impiegato ben nove anni per decidere quanto possa essere pretestuosa la domanda della ripetizione delle somme da parte di clienti che essendo in momentanea difficoltà utilizzano tali espedienti per guadagnare tempo inconsapevoli che tali pretese infondate possano produrre maggiori spese sia per il giudizio in sé sia per le competenze maturate dall'avvocato incaricato. Nonostante le lungaggini della giustizia la BCC di Acquara è sempre vittoriosa dimostrando la propria trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti. Siamo sempre disponibili, dichiara l'avvocato Lippiello, responsabile dell'ufficio legale. Ci risulta sempre molto difficile comprendere le motivazioni che spingono un cliente a tali espedienti. Considerate le ingenti spese a cui si va incontro atteso che l'ufficio legale è sempre aperto ad ogni transazione di comune soddisfazione. Le somme che vengono utilizzate per questi giudizi lunghi e costosi potrebbero bastare a consolidare un accordo, un piano di rientro, una transazione che metta il cliente nelle condizioni di pagare agevolmente e contestualmente non provochi perdite per la banca. Ripeto sempre ai nostri clienti, come a tutti coloro che restano legati ad un'idea di banca, così come viene troppo spesso presentata da messaggi mediatici, i soldi che prestiamo ai soci e ai clienti non appartengono alle banche, bensì ai risparmiatori che ci hanno scelti per custodirli. Questa è la ragione principe che ci farà andare sempre fino in fondo nel recupero dei crediti. Restituire i prestiti è un fatto etico non solo verso la banca ma anche e soprattutto verso il prossimo.